però qual è il problema? è che, dato che non sono cicli ecco, lascialo andare avanti la scena per un po' forse è meglio fare fino a metà ciclo da qui con il carrello che va su ma si vede bene si vede bene il carrello stavo facendo un disastro adesso la facciamo basta così, guarda, fermaci mi piace vabbè, ti aspetta un po' il tempo, va bene, va bene vai grazie grazie grazie